ragazzi un saluto del comandone veneziano stadio vicente calderon atletico de madrid barcelona vincere questo vuol dire all'ottanta per cento forse portare a casa la liga diluvio devastante al calderon tensione in audita queste ultime partite chiaramente devo fare complete perché è giusto così e perché ci deve essere la sospense completa eccoci qua ragazzi il barcelona è una minima chance di entrare reale valenci invece sono assolutamente in corsa se il barcellona perde o pareggia è fuori dalla scudetta chiaramente è una minima chance il barça purtroppo ci è capitato proprio un calendario difficile alla fine se non perdevo con il villareale adesso potrei sicuramente affrontare questa partita con un po più di tranquillità ormai il passato è passato adesso conta vincere vai in the box in the box sul diluvio madrileno di testa niente da fare si che era bravissimo per il turan il turan il turan papra del portiere mare cupa mamma mia adesso devo mettere il cuore tra l'ostacolo coche 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 di mamma antual antual mette in ginocchio il portiere del barça 1 a 0 1 a 0 esplode il vicente esplode il vicente ancora lui l'uomo del destino antual gritzman relax stiamo su fin si può mancare dai fioi dai non ci siamo bravissimo il sic che roberto ho c'ho roby ho c'ho roberto fio ho c'ho roby bravissimo il corre il corre comunque dai ha guadagnato qualche secondo ancora coche è finito ormai torera butta lunga buttiamola su buttiamola su chi se ne frega fischio arbitro dai che possiamo fare tutti tre punti pesanti se il valencia e real non hanno vinto è fatta grande vittoria siamo una partita dal titolo siamo a una partita dal titolo real madrid crollo crollo del madrid più tre punti di vantaggio ragazzi tre punti di vantaggio no due scusate due punti cazzata mia due punti di vantaggio solo il valencia mi può strappare il titolo relax 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 è il primo tempo quindi penso che non lo dico già adesso non lo metterò primo tempo come sempre noioso sembra che fifa si sia veramente abituato a darmi in primi tempi così non lo capisco non è che lo vedi questo fifa qua su tante cose mi ha deluso questa è una di queste primo tempo non puoi segnare vai turè 45 minuti non è che hai visto la valencia cosa fa mi sono rifiutato abbiamo 45 minuti per cambiare le sorti di tutto se prendiamo gol è finita comunque 5 minuti per cambiare le sorti di tutto dai fioi roba nostra siamo già al 52esimo antuan lunga lunga occhio fioi aia bravissimo non riusciamo a giocare se c'è il gol è finita gol della granada gol del granada stiamo buttando via la liga io non ho parole il nostro 5 maggio è arrivato pazzesco al valencia comunque deve per forza vincere anche un pareggio non basta mo so cazzi eh però mo so veramente cazzi 63esimo stiamo buttando via tutto contro una squadra già sa no calma dai come grinta adesso porca puttana adesso sono due gol no no gol del granada è praticamente finita anche con un pareggio non si sa ormai Antoine 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 di cuore sono sconvolti i concioneros tira rigore non me lo da cambi cambi su cambi fioi è finita fioi è finita l'ultima chance attacco totale sbaglia ancora sbaglia ancora l'atletico non è mai sceso in campo oggi incredibile vado a vincere quel bar secondo tutto e perdo quel granada 2 a 0 mamma mia baratro puro baratro puro non riusciamo a toccare palla Antoine ti prego Antony ti prego Antonino mio vai Antonio Antonio il Ninius il Ninius ti prego Ninius aprila Ninius il Ninius gol del Ninius gol del Ninius e manca un quarto d'ora gol del Ninius e manca un quarto d'ora gol del Ninius e manca un quarto d'ora dai Non facciamo l'ora con il Villarreal Teniamo attacco totale Chi se ne frega Crediamoci Bravissimo Goretzka Mamma mia il ninho Mamma mia il ninho Che giocatore Che giocatore il ninho Dai Fioi dai Ottantesimo Eh siamo stanchi però Occio, Eddie Rubiamoli sta pala Con un pregio possiamo anche farcela forse Va bene adesso Dai però Nostra roba nostra Roba nostra cazzo Sei minuti Il corre che è più piccolo Di non so chi Niente non riusciamo a prenderla Sì Attenzione Torres Torres Eh è troppo lento Torres non possiamo chiedergli anche di correre Due minuti O il Valencia pareggiato È finita ragazzi Non riusciamo proprio a prenderla È programmata così Programmata così Primavera delusione per Veneziano A parte la Champions dell'anno scorso con Liverpool Ma perdere un campionato all'ultima giornata È dura Uno di recupero Finisce qua ragazzi Ma non ci credo Vuol dire che il Valencia non ha vinto Vuol dire che il Valencia non ha vinto Il Valencia non ha vinto Il Valencia non l'ho neanche visto Il Valencia non ha vinto È di un punto 78 atletico 77 Madrid Valencia 77 Il culo comandiano Abbiamo vinto Siamo noi Siamo noi I campioni Della Spagna Siamo noi Ciao 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 Ciao